Quello che vedete potrebbe essere il nostro ultimo raccolto di asparagi. Ormai la stagione è agli sgoccioli. A meno che, come dice il buon Michele, conoscitore di ogni anfratto di queste terre selvagge, non ci spostiamo di 300-400 metri, saliamo di livello verso il Monte Maio e verso Vallauria. Ormai questa nostra gita infrasettimanale sta diventata una consuetudine e quindi è probabile che ci rivedremo con altri video delle nostre passeggiate in montagna. Tra quei rami di queste piccole querce si può vedere il Monte Maio. Alla prossima!